Salve, io sono una persona a caso su internet e questo è un video che non pensavo che avrei mai fatto. Questo perché è un video TBR. Cos'è un video TBR? TBR sta per To Be Read. Quindi nei video di questa tipologia solitamente si vanno a elencare i libri che una persona leggerà nel prossimo mese o comunque in futuro. Io sinceramente non pensavo avrei mai fatto un video del genere perché a parte che la maggior parte delle volte non li guardo e poi non sapevo come avrei potuto rendere comunque interessante un video in cui elenco dei libri di cui non so niente perché non ho mai letto. Scusate se dondolo ma ho preso la sedia con le ruote che si muove quindi io sono fisicamente incapace di stare ferma ma adesso starò ferma. Quindi mi son detta boh non riuscirò mai a trovare il modo per renderli un attimo un po' più divertenti. Poi più recentemente è successo che molte persone hanno cominciato a aggiungere dei metodi originali per scegliere i libri che leggeranno il prossimo mese. Quindi per esempio abbiamo c'è una ragazza che penso sia australiana che ha fatto il monopoli quindi lei ogni mese fa il video dove tira il dado e muove la pedina in base alla casella dove è finita sceglie il libro. Oppure c'è Sara di Orange Dinosauraur che ha fatto la ruota della fortuna e quindi mi son detta non voglio copiare gli altri. Quindi se mai mi verrà un'idea di qualche genere su un video TBR lo farò se no no. E quindi mi son messa a pensare per 2,5 secondi e mi è venuta in mente questa idea del cacchio. Cioè le carte di Yu-Gi-Oh! Ora non so se voi conoscete Yu-Gi-Oh! Era un gioco che almeno andava tra i bimbi dell'elementare quando io ero elementare e tanto che a un certo punto io compravi anche un pacchetto di carte perché volevo entrare nel circolo. Però cioè io nel senso preferivo giocare ai supereroi che giocare a briscola all'elementare e quindi non ho mai imparato alla fine. Però mi è sempre rimasto impresso queste carte di Yu-Gi-Oh! con dei nomi improponibili, delle cose super mega esagerate ovviamente ma è un gioco per bimbi. No aspetta, questo potrebbe offendere qualcuno no? Comunque un gioco con i mostri e queste cose qua. E quindi io che cosa ho fatto? Praticamente ho cercato tutte le carte di Yu-Gi-Oh! possibili e immaginabili. E su Google immagini, database, ebay, qualunque cosa e praticamente se una carta mi ispirava la modificavo. E quindi tutte le carte che vedrete non sono, cioè hanno nomi e immagini originali e ovviamente ho cambiato la descrizione. Andrò a estrarre, qui ho le mie carte, le mescolerò e estrarrò casualmente. Tutto questo appunto per dire sta cavolata, cioè che ho delle carte modificate da me e che estrarrò. Sono 20, io ho deciso che ne estrarrò 5 al mese perché così almeno non è che devo cambiarle sempre perché è stato un po' un lavorone. E poi perché 5 mi sembra comunque un numero contenuto. Non sono troppissimi libri che magari ho l'ansia che non ce la farò, però sono anche un numero che magari potrei superare. Quindi potrei aggiungere anche i libri bonus. L'ultima cosa che volevo dire è che... Che masè prossimo? Ad april. Voglio assolutamente, cioè sicuramente leggerò Rovina Ascesa con la mia amica e poi voglio leggere Truth Witch e poi voglio finire la trilogia della Terra Spezzata e quindi leggere Il Cielo di Pietra. E proverò a incastrarceli in mezzo a queste estrazioni se trovo il modo, se no vabbè, si vedrà, si vedrà. Tanto un altro dei motivi per cui non faccio mai la TBR è perché poi non la rispetto mai, quindi sicuro tutti questi miei piani andranno in fumo, ma almeno questo video è divertente, almeno dite che è divertente perché se no ho fatto tutte queste cavolate per niente. La prima carta che estraiamo è questa. Io ovviamente non vedo niente. Ho estratto l'occhio della verità. Questa carta è il segnale, è tempo di parlare con l'oracolo supremo, il piccolo libro delle risposte. Allora andiamo a prendere il piccolo libro delle risposte. E adesso? Marone. Allora, come funziona il piccolo libro delle risposte? Adesso dovrò però prendere un libro, prendere un libro e chiedergli devo leggere questo o no. Ok, vabbè, facciamo con Truth Witch. Oh, grande libro delle risposte. Dovrò leggere Truth Witch a aprile. Vediamo. Dovrai prendere l'iniziativa. Ebbene sì, quindi Truth Witch va direttamente nella TBR o TBR di aprile. E questa è la prima carta. Poi seconda carta. Seconda carta sarà questa. Incubo finale. Ah, questa è rosa perché alla stampante ovviamente non c'è la voglia. In questo momento senti musica da boss finale semplicemente perché è arrivato il momento di affrontarlo. Porta a termine qualche serie. Ti scongiuro. Beh, è ottimo sia per rovina e ascesa che per il cielo di pietra. Quindi quello, questa carta andrà benissimo per il cielo di pietra che ho qua. Il cielo di pietra è il second. È per ora tutto a posto. Poi la terza carta. Tour del destino. Che bello viaggiare. Aspè, che vuol dire viaggiare? Leggi un libro ambientato in un luogo che vorresti visitare. Per questa carta ho scelto L'inverno della strega di Catherine Ardlum. Perché? Che è una serie ambientata in Russia. Io, dovete sapere che l'anno scorso dovevo andare con la mia classe in gita di quinta a San Pietroburgo. Mi si spezza il cuore il fatto che non ci sono potuta andare. E quindi ci dovrò andare con Morosco. Eh, va bene, ce ne faremo una ragione. Altre due carte. Questo. Uh, no, giudizio solenne. Il momento del giudizio solenne è arrivato. Fai scegliere al Cano Supremo una lettura tra tre libri scelti da te. Metterò la clip perché adesso, in questo momento, il Cano Supremo è occupato a fare cose da Cano Supremo. Si è occupato a fare cose da Cano Supremo e quindi appena riuscirò lo farò. Va bene, Minou, il mio destino è nelle tue mani. Vai, liberala. Libera il Cano Supremo. Dai, Minou, scegli. Scegli una di questi. No, Minou, vieni qui, dai. Una di questi, dai. Guardami. Minou, guardami. Scegli. Vieni qui. No, l'hai saltata. Devi sceglierne uno. Minou, guardami. Cos'è qui? Cos'è? Eh, vabbè, se indichi quello però. Ma Minou, intipatica. Però la prima zampina l'ha messo su questo. Quindi mi sa che dovrò leggere questo. Vai, Minou, scegli. L'ultima carta. Uh, la luce del richiamo. Mai tu di caro un libro dalla coppa. Ah, che ridere. Leggi un libro con una copertina stupenda. Ho comprato solo per la copertina. Ok. Mia sorella mi ha fatto venire in mente il libro prescelto per questa carta. Ovvero Language of Thorns di Libardugo. Uno degli ultimi arrivi nella libreria di casa. Parlo troppo per il mio compleanno. Ho compiuto 12 anni. Questo è un libro di storie brevi, leggende ambientate nel mondo griscia. Sempre di tenebre ghiaccia, sei di corvi, eccetera. E quindi sarà una lettura breve ma intensa. Poi sicuramente la copertina c'è. La copertina bella c'è. Quindi alla fine, adesso che ho fatto anche il giochetto con la Minou, il bilancio è questo. Più rovina è ascesa. Non sono riuscita a infilarci in mezzo Truthwitch. Ragazzi stavo mettendo a posto la roba e mi sono ricordata che ho una memoria di una nocciolina. E avevo scelto di leggere Truthwitch. Non avevo messo rovina è ascesa. Perché sono stati 5 minuti da quando ho deciso di leggere Truthwitch. Quindi ovviamente io mi scordo. Però comunque rovina è ascesa, visto che lo inizio il 30 marzo, visto che esce in italiano il 30 marzo, diciamo che è una lettura di marzo, no? Quindi siamo a posto, va bene. Vi rilascio alla Francesca del passato che ha la memoria di una nocciolina. Ma visto che comunque due di questi sono libri piccolini, spero di riuscirci. Questo, quello scelto dal Cano Supremo è Sosteno e Pereira. Ed è un regalo di una mia amica che a lei è piaciuto tantissimo. Che spero piaccia anche a me. Niente, questo era il mio primo tentativo di fare un video TBR. Ditevi se l'idea vi piace. Ci sono altre 15 carte che ho fatto con tanta cura e tanto amore. E niente, spero di riuscire veramente a mantenere i buoni propositi. E a leggere tutti questi libri ad aprile. Ma sarà solo il tempo a dircelo. E quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Bye bye!